Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di GTA V Online per console Finalmente ragazzi, gare malate Vai con le bici, uno ha già abbandonato la sessione, che scatole ragazzi Vai così, maledetti, perché non ha saltato? Cioè guardate che potenza che ha il mio personaggio Devo un attimo metterci il cappellino nuovo Nooo Non riesco più a saltare ragazzi, fatemi un attimo prendere dimestichezza Dai è così Avanti Eccoci qui di nuovo Non saltare Questo fregato Dai è così Ma che cavolo Olè Vai giù Siamo secondi ragazzi, siamo secondi Vai così Eh no Dove cavolo Vai giù Ma sono impazziti ragazzi, è vero C'ho il personaggio senza resistenza ragazzi No Preso il check? No Devo potenziarmi anche il personaggio perché qua Le gare malate ormai non si riescono più a fare con il mio personaggio Prendiamo un attimo di vita ragazzi che siamo primi E ce l'abbiamo fatta Vai così con calma Vai 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 Qua senza saltare Perfetto Ola Siamo primi ragazzi Senza vita Cioè non ho vita nel personaggio E siamo ugualmente primi Cioè è pazzesco Queste gare su console mi piacciono troppo ragazzi Ho preso il check La prossima gara sicuramente l'andremo a fare con una moto perché il mio personaggio qui non ha abbastanza potenza No Olè Volendo potevo fare anche le scale ma È meglio così ragazzi Siamo primi Siamo primi Dai che la prima gara sul ritorno qui Dove devo andare? Di qua Dai pedala Pedala Eccoci qua Dentro Dentro Dai Non sale più ragazzi Non sale più Eh no adesso qui c'è un mega wall ride da fare Prendiamo un attimo Di vita Eccoci Eccoci Preso tutto quanto Avanti Con l'ultimo check Preso No Devo assolutamente potenziare il mio personaggio ragazzi Perché se no È veramente un casino Mi sa che devono fare così qua Perfetto Avanti perché prima potevo tranquillamente saltare quella cavolo di recinzione Solo che non ho potenza Non ho potenza nelle gambe ragazzi Dai così E si prende sto checkpoint No contro l'albero Siamo sempre primi Siamo sempre primi E ho già finito la potenza Che due scatole Salto Salto Ce l'ho fatta Senza vita E ce la faccio ugualmente io Ho preso anche questo qui adesso Triangolo Dai così ragazzi Che la prima posizione Non ce la toglie nessuno Magari Qui non ce la farò mai E poi mai Questo qui Non riesco a farlo ragazzi Questo salto qui è veramente Difficile Soprattutto Se uno non ha potenza No Perché mi sono incastrato qua Proviamo a scendere Vediamo un po' Eh Dovrei fare un ipersalto gigantesco E atterrare là Fermi tutti ragazzi Dopo 30 minuti Sono riuscito ad arrivare Qua su in cima Nella siepe Hanno tutti quanti quittato Perché è veramente difficile Poi io con il personaggio Che perde potenza È stato veramente Un macello E adesso qui sarà il difficile Come cavolo faccio ad entrare E a fare quel cavolo di salto Sull'autobus Ragazzi Niente da fare Fermati Devo saltare prima Non salta Non salta Questo personaggio Ed eccoci qui Con la seconda gara Purtroppo La prima Dopo 35 minuti Non ero riuscito ancora A fare nulla ragazzi Quindi ho quittato Perché Non ho assolutamente Il personaggio adatto E Dobbiamo divertirci Quindi Vai così Ole E mi storda Primo Varchroba Siamo un bordello Di persone Ragazzi Sì bravo Buttami pure fuori Prendimi la scia E adesso freno E tu mi sorpassi Ole Non toccarmi Maledetto Guarda che prendo la scia Ciao bello Ci vediamo Bravissimi Siamo ancora qui ragazzi In lotta Siamo quinti Se Facevo magari meglio La curva Non mi ero assolutamente Accorto Dei container Di questi Esplosivi Qui ragazzi Dunque vedete Abbiamo già recuperato Una posizione E adesso Inizia Il bello Di questa gara Ragazzi Cosa cavolo È Tutta sta cosa qua Cosa Cavolo È Sto Wall Ride Abominevole Preso E adesso Distruggiamo tutti Non facciamoli passare No Ma che cavolo Ragazzi Pensavo Di Di bloccarli E uscire Dall'altra Invece Vai così Siamo terzi No Maledetti Ero secondo Vai Esplodete male Eccoci qua Secondi Ci sono due giri Questa gara È assurda Guardate Esplosioni Che ci sono È troppo divertente Penso che sia una delle più divertenti Che ho fatto nell'ultimo periodo Chiaramente ragazzi Siamo su console Perché non ho mai visto Così tante persone Su pc Secondo giro Subito così Di next E siamo primi Anche Vai così E prendiamo subito Il checkpoint Non morire No Atterra bene Oh là No Incastrarti Vai così Con la zentorno Siamo primi Ragazzi Siamo primi Il giallo È il secondo E il traguardo E andiamo A vincere Maldita Vacca Ed eccoci qua Ragazzi Ho preso anche il turbo Con l'ultima gara Di oggi Frena Maledetto Ma dove cavolo Guardate Perché devo sempre Entrare in lobby Con certa gente Che non sa Porca vacca Ragazzi Vai così Prima Avevo perso Perché mi sono accorto Che avevo lasciato Aiuto giocatori In coda Ragazzi E quindi È per quello Che non ho fatto Il salto Lunghissimo Perché sennò Riuscivo a farlo Tranquillamente Levati Tu mi hai buttato fuori E quindi adesso Anneghi Qui L'ho tolto Proprio Aiuto giocatori In coda Qua non esiste Dai Questa zentorno Gialla Avanti Sullo scoglio No Girati Io pensavo ragazzi Di fare il salto E superarlo E invece Niente da fare Avanti Dovrebbero esserci Tanto due giri Quindi nulla È perduto Siamo di qua Sperando che qua Nessuno si faccia Esplodere Ole Fermati E bistarda Ce la fa Al primo colpo Ci vediamo Ragazzi Che cavolo È Ciao America Prendilo Sì E ce l'abbiamo Fatta anche questa Qui Al primo colpo Avanti Così Vai Questo 4x4 Accelera Vai così Adesso Tutte le gare malate Saranno con Le macchine Stock Ragazzi Perché Non ho i soldi Per comprarmi Una macchina E personalizzarmela Come ben sapete Ho il nuovo personaggio E siamo Sempre Primi Questa volta Dobbiamo portarcela A casa Assolutamente Questa vittoria Uno Ed ecco qua Il secondo giro Vai così Non male Ragazzi Queste gare Mi sono veramente Piaciute Veramente Molto divertenti Scrivetemi voi Nei commenti Cosa ne pensate Cavolo Fortuna Che ho preso Veramente Ragazzi L'azzo intorno Che è un bellissimo 4x4 Se prendevo La turismo Come avevo in mente Io Secondo me Avevo Un po' Più di problemi Siamo qui Mezzo L'acqua Cavolo Passiamo da questa Qua Vedo che nessuno Si è schiantato Bene Perché Cavolo L'acqua Oh Eccoci qua Ragazzi Fermati Non cadere Beh Come non detto E allora Questa È la volta buona Ragazzi Questa è la volta buona Preso il checkpoint Perfetto Dai che Atterriamo Qui Ottimo E adesso Andiamo a portarci A casa Questa prima Posizione E siamo A posto Scrivetemi Come al solito Ragazzi Tutto quello che volete Sotto nei commenti Quale gara vi è piaciuto Vi è piaciuta Di più Più che altro Se Avete qualche gara Da suggerirmi Arriviamo a 10 12 mila Mi piace Ragazzi Per queste gare Su console E Oh cavolo Il secondo è lì Con la macchina verde Non lo so Ma noi Concludiamo Quindi il video di oggi Si conclude qua Ribadisco che Se vi è piaciuto Lasciate veramente Tantissimi pollicioni in su Commentate Condividete Passate nella pagina facebook Che trovate sotto in descrizione Qua da Bistard Per oggi è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao